Il Comitato Sanità di Sciacca valuta positivamente il primo incontro che ha avuto con il commissario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia. Questa mattina abbiamo sentito Franco Zammuto. Chiaramente siamo ancora ad un primo approccio. Il Comitato attende di verificare i risultati che arriveranno a seguito di quanto ha annunciato ieri Zappia. Però già le prime dichiarazioni del commissario che ha parlato della questione relativa ai direttori delle unità operative, mai più direttori delle unità operative facenti funzioni durante la mia gestione, ha detto Zappia che ha parlato poi di un riequilibrio per quanto riguarda il personale tra le strutture ospedaliere della provincia rispondendo anche alle domande che gli sono state rivolte pure durante la riunione su una gestione agrigentocentrica della sanità agrigentina. Ecco Zammuto tutto questo lo valuta positivamente e si va probabilmente anche se questo verrà deciso poi nei prossimi giorni si va probabilmente verso una sospensione dei sit-in settimanali che si svolgono qui nella zona del 118 all'ingresso dell'ospedale di Sciacca. Ma ascoltiamo Zammuto. Credo che l'impostazione sia partita bene nel senso che abbiamo provato prima a conoscerci. È stata la tappa dalla quale dovrebbero seguire tutte le altre. Infatti il dottore Zappia ci ha chiesto di fare un elenco delle questioni che noi riteniamo non è che non si sia parlato già della sanità. Abbiamo preso gli spunti fondamentali che chiediamo ma non li abbiamo approfonditi perché il dottore Zappia vuole affrontare la questione periodicamente insieme anche a noi, anche perché chiaramente il dottore Zappia ha la sua autonomia in quanto commissario e si rivolgerà ai suoi dirigenti che saranno quelli con cui concorderà, ma non ci escluderà da queste iniziative che vorrà assumere e che quindi periodicamente ci contatterà. Questo è per noi un fatto molto importante tenuto conto che già il segno degli incontri sono quelli di chi vuole collaborare e non sicuramente quello di chi distrattamente ascolta un comitato, peraltro un comitato che possiamo dire è molto serio e che procede nella maniera che dovrebbero seguire tutti i comitati e quindi noi siamo soddisfatti di questo primo incontro. Chiaramente sarà il proseguo di questi incontri che ci saranno a definire e a dire quali saranno le cose che si potranno risolvere e che risolveranno. Noi riteniamo che in momento di Covid piuttosto che deprimere e piuttosto che implodere questo ospedale dovrebbe crescere, non fosse altro per tutte le promesse di soldi che già ci sono e che siamo certi arriveranno per cui dei programmi, non dico a brevissimo, ma a brevissimo ci saranno delle cose da fare, quale per esempio quella dei tamponi che non è possibile aspettare 48 ore e che è una delle cose che abbiamo subito segnalato e che riteniamo si debba intervenire immediatamente. Sul piano operativo lui ha già detto delle cose, mai più durante la mia gestione, incarichi a tempo determinato, incarichi facenti funzioni per la guida delle unità operative, un riequilibrio per quanto concerne il personale tra le varie realtà ospedaliere, con riferimento a quello che si dice a sciacca, diciamo di una sanità agricentocentrica. Ecco, già questo vi soddisfa? Ma questo è un inizio ottimo. Si rende conto, il dottore Zappia, che il facente funzione non assumerà mai determinazioni serie, ma che sarà lì ad aspettare che gli avvengano segnalate le cose da fare e procede. Voglio dire, l'autonomia, il facente funzione di poter gestire un reparto non ce l'avrà mai, perché sa che da un momento all'altro può essere avvicendato. E quando dice che non farà facenti funzioni, dimostra la serietà con cui vuole affrontare la problematica. Ci saranno altri incontri settimanali del comitato? Il presidio alla luce di queste rassicurazioni al momento non si terrà più una volta a settimana? Beh, questo adesso lo dobbiamo decidere. Tenuto conto dell'incontro positivo, decideremo nel merito che qualora dovessimo decidere, decideremo per una sospensione di questi picchettaggi che facciamo ogni martedì davanti all'ospedale.